Uno che non lo uccide secondo me pure Quello 11 Beh voltano Mi avevi chiesto un quiz Alla roulette di un casino E' solo una storia Twitch Non stiamo facendo gambling Sono consentite solo Fish da 5 e 8 euro Qual è la puntata più alta Che non può essere fatta? Perché sono consentite solo Fish da 5 e 8 euro Quindi tipo puoi puntare 5, 10, 15 Puoi puntare 16 Puoi puntare 28 Non ho capito Quale sarebbe? Qua dice 27 euro Ok Ma qui non posso giocare Te driven a due stack è meglio No ma il problema Il problema è che abbiamo un bel vetbozz Infatti è una persona Scusa Questa pagina Non c'è bene il DPS icherà ammazzare. Secondo me se grebo perdiamo. Ma finisce in tragedia qua. Vabbè non è bruttissimo. Velvet si vede comunque huge. Non l'ammazziamo male. Questa era bullshit proprio. C'è ma. Guarda che ci muore. Era il miglior tirabugni del passato. Ma mio Dio. Che potenza di percosse amici. Bravo. E fa pure la kill no. Non muore. Mamma mia. No vabbè. Poi il locket è rotto contro brand contro. No il locket è da perdenti Paolo. Quello è il problema. Un item proprio infimo. E soprattutto il video di YouTube è molto più facile da clickbaitare con l'Everprost. Ma che è il Drake? Usciamo questa merda. Quando respawn dei campi dove splitti finisce così. Ok. Ma non so che l'abbiamo. No. Però magari fanno la cacca addosso. Lui se l'è fatta la cacca addosso. Eh. Ah. Non prende l'hug. Penso di sì. No. Però buona l'idea. Mi sembra che l'ho fatta la cacca. Allora prima me l'ho aggiata adesso. Forse è più perché poi mi salvavo. Ne è valsa la pena. Ne è valsa veramente la pena. D'altro se l'intento era perché con la kill prendevi un recall migliore ci sta. Hey King, lascia un mi piace A 10.000 uscirà un nuovo video Ma parlo, ma non li fai 10.000 manco se li paghi 2.315 Potevano premiarti per questo Eh, l'ho depilato, cazzo Uno vino l'ammazzo Rola a buco, questo Questa si chiama Coach Gap Ma autoattaccalo prima che Madre di Dio Mi rimangio quello che diceva su Draven Sto è flashoso Vabbè, sta la saga dell'intro Non ho un OnlyFans ragazzi Per gli interessati che chiedevano What? Bel dodge Muore Saras Minchia, non ha preso manco l'assist Draven Scusami, ma quello che ritorna indietro Non dovrebbe prenderlo Eh, ma mi sa che non l'ha Non ha preso danno per la E di Pantheon Per qualche motivo Eh, vi tengo aggiornati sui miei social Che sia Twitter, Instagram Game incredibilmente equilibrato Non si spiega il motivo Ah, Silas è il motivo Ecco a voi LonelyFans Blitz contro Ecco Rot Così ci si trocca È molto più probabile Che ci pensi di più Boom Vediamo che succede con un'auto È quello che voleva scoprire anche lui Ma adesso muore Ok, never mind Morost Eh, morost Gli uno per uno sono Io non muoio C'è tab Cioè non c'è tab Sì, quasi Vabbè Hai praticamente i tab Con la World and Smet L'ammazzo quello Come io non lo uccido Scusami pure Nivello 11 Bevolta Ah, no Ciao Scemo Spenuto Mamma mia che brutto Vai, vai Questi game neanche ci pesano Giusto? Ruffato Replay Ah, io ho levato lo scuro Nice Guarda quanto ho di KDA No, vabbè Potevo fare un 22 Per il meme Ciao 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 Grazie a tutti.